Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Il fanese Jacopo Monaldi Semaforo danneggiato dai vandali e fonte di pericolo per gli automobilisti la segnalazione da Fosso 6 ore Taglio del nastro per la pista ciclopedonale a Sant'Orso di Fano 130.000 euro per i nuovi 500 metri di percorso Capretta a spasso lungo la Flaminia Fano curiosità e stupore per questo insolito incontro con l'animale Le Proloco danno i numeri sul Natale che non ti aspetti Boom di presenza e visibilità a livello nazionale per gli eventi organizzati dai mille volontari Cari telespettatori bentornati sul canale 17 di Fano TV per questa nuova edizione del nostro telegiornale In apertura come sempre la cronaca una 48enne è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato questa mattina a Marotta di Mondolfo a scontrarsi in un incrocio lungo la statale Adriatica non lontano dal centro commerciale Il Maestrale sono stati un furgoncino e una lancia Y condotta dalla donna sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi di legge il 118 che ha trasportato la 48enne all'ospedale di Senigallia la donna residente a Saltara di Colli al Metauro non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze l'incrocio in cui si è verificato al sinistro all'altezza della deviazione per la strada cesanense è lo stesso in cui nel gennaio 2017 si verificò il tragico incidente in cui rimase gravemente ferito il centauro Jacopo Monaldi Fanese di 24 anni deceduto il giorno successivo al fatto alla torrette di Ancona ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un senzatetto ubriaco che nelle vicinanze della pista di ghiaccio ha aggredito alcuni passanti senza alcun motivo la prima ad essere presa di mira con un pugno al volto è stata una ragazza tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra i carabinieri del nucleo radiomobile di Fano hanno arrestato un italiano di 37 anni senza fissa dimora per lesioni e minacce ad alcuni passanti e per resistenza pubblico ufficiale fatti tutti accaduti nella centralissima piazza Veduti nei pressi della pista di ghiaccio all'aperto allestita in occasione del periodo natalizio erano circa le 18 di ieri pomeriggio quando è arrivata al 112 la chiamata di una ragazza del posto che chiedeva l'intervento immediato dei militari per un uomo in evidente stato di alterazione che dava in escandescenza e senza controllo a causa dell'abuso di alcol che dopo averla aggredita senza alcun motivo sferrandole un pugno al volto continuava a minacciare e colpire con calci e pugni prima il compagno ha corso in suo aiuto e poi anche le altre persone presenti tra cui i pattinatori della pista di ghiaccio creando grande scompiglio e apprezzione tra la gente dalle indagini successive poi dei carabinieri è emerso anche che il giovane durante le aggressioni avrebbe tenuto condotte oscene mostrando le proprie parti intime ai presenti i militari arrivati rapidamente sul posto hanno trovato il giovane ancora fuori di sé che farneticando frasi sconnesse ancora non aveva scaricato tutta la sua collera e continuava a rivolgersi ai passanti in modo minaccioso e aggressivo in vendo contro tutti quando i militari poi hanno tentato di riportarlo alla calma l'uomo di tutta risposta invece si è scagliato anche contro di loro costringendoli ad ammanettarlo e dichiararlo subito in stato di arresto nulla di grave fortunatamente per la povera vittima salvo un grande spavento per l'inaspettata e violenta aggressione nella mattinata di oggi si è tenuta l'udienza di convalida richiesta dalla procura della repubblica presso il tribunale di pesaro unitemente al rito per direttissima all'esito del quale il giovane ha patteggiato la pena in nove mesi di carcere e la procura della repubblica di Ancona invece aprirà un fascicolo per alla morte di Mattia Perini lo studente di 16 anni investito ieri da un treno nella stazione di Loreto città dove frequentava l'istituto alberghiero non si sa però con quale ipotesi di reato dato che non è ancora arrivata tutta la documentazione da parte della polizia ferroviaria verranno acquisite la scatola nera del frecciargento che ha investito il ragazzo e le immagini delle telecamere della stazione il 16enne non si sarebbe accorto del treno in arrivo perché aveva le cuffiette il PM Serena Bizzarri non intende disporre l'autopsia perché le cause della morte sono certe bisogna però ricostruire la dinamica dell'incidente e adesso passiamo alle vostre segnalazioni andiamo a Fosso 6 ore dove un semaforo è stato danneggiato dai vandali ed ora crea una situazione potenzialmente pericolosa vediamo perché manomettere o vandalizzare un semaforo è doppiamente grave primo perché danneggiare deliberatamente un bene pubblico a beneficio della collettività è un grave atto di inciviltà è punito dal codice oltre che rappresentare un costo per i cittadini secondo perché il danneggiamento comporta il malfunzionamento del semaforo stesso e quindi crea una situazione di grave pericolo ancor più grave di per sé il fatto che in caso di incidente a farne le spese sarebbero ignari utenti della strada è il caso segnalatoci recentemente da diversi utenti in particolar modo ciclisti e pedoni che usufruiscono del sottopasso ferroviario a fosso sei ore che mette in comunicazione la zona monte con la zona mare in particolare il pericolo è dato dal fatto che la viabilità nel sottopasso data la sua larghezza è a circolazione alternata regolata proprio dal semaforo verde da una parte e rosso dall'altra e viceversa ora dalla parte monte ovvero provenendo dalla nazionale ed imboccando il sottopasso il semaforo non ha più le gemme colorate che consentono una migliore visualizzazione del colore in essere perché qualche individuo di scarso intelletto ha pensato bene che era meglio spaccarle rendendo così inutile la sua accensione morale della favola si passa con qualche patema e molta attenzione sperando che sia il colore giusto e che dall'altra parte non sia verde viceversa per chi viene dalla parte mare dove il semaforo è integro paradossalmente è ancora peggio sì perché se il semaforo rotto induce a un po' di prudenza in più chi è da questa parte vede un bel verde sparato e mai penserebbe di trovarsi davanti improvvisamente dall'altra parte un'auto o peggio ancora ciclisti con bambini al seguito cosa che invece si è puntualmente verificata sotto i nostri occhi o meglio le nostre telecamere ora è un periodo di minore utilizzo di questo strategico sottoferrovia data la stagionalità ma comunque nei fine settimana viene spesso e frequentemente utilizzato da chi percorre la ciclo pedonale Fano-Pesaro e viceversa pertanto il nostro auspicio come quello anche dei segnalatori e che ben presto le lampade di questo semaforo strategico siano a breve ripristinate onde evitare spiacevoli conseguenze Rivoluzione nei centri per l'impiego delle Marche dove sono in arrivo quasi 25 milioni di euro in tre anni il programma che definisce l'utilizzo delle risorse previste dal decreto del ministro del lavoro dal ministero del lavoro in pieno svolgimento ha detto oggi il presidente regionale Luca Ciriscioli le misure principali riguardano il rafforzamento del personale con 168 nuove assunzioni un aumento del 50% rispetto ad oggi parte delle risorse saranno invece destinate ad arredi attrezzature e infrastrutture informatiche nonché all'adeguamento delle 13 strutture si tratta di un provvedimento importante ha spiegato Ciriscioli finalizzato a potenziare innanzitutto i servizi di incrocio domanda e offerta per dare l'opportunità al neodiplomato così come al cinquantenne di trovare lavoro rapidamente Ancora furbetti dei rifiuti a Fano adesso vediamo alcune fotografie che ha scattato un nostro reporter di strada e che riguardano una vasca una vasca da bagno abbandonata in un campo è successo a poche decine di metri dal cimitero di Rosciano proprio sullo sfondo in alcuni di questi scatti che ha inviato il nostro telespettatore si nota la struttura del Campo Santo Questa mattina invece l'amministrazione comunale di Fano ha inaugurato la nuova pista ciclopedonale che collega Sant'Orso al centro storico il sindaco Seri per l'occasione ha annunciato anche altri interventi alla viabilità con il taglio del nastro di questa mattina nella nuova ciclopedonale di via Soncino il quartiere di Sant'Orso diventa sempre di più dal punto di vista della mobilità sostenibile fanese un punto di riferimento e di partenza per un nuovo corso della viabilità cittadina un processo lungo partito due anni fa e cresciuto attraverso tanti passaggi come il progetto a scuola andiamo da soli una nuova segnaletica orizzontale e ora a grande richiesta dei residenti del quartiere questo nuovo pezzo di poco più di 500 metri che diventerà parte di un più lungo percorso che da Bellocchi passando per Sant'Orso appunto e il centro arriverà sino al mare Ancora ci sono dei nodi da mettere in sicurezza però diciamo che questa è una delle prime linee della nostra visione di piste ciclabili della città ogni quartiere deve essere collegato al centro storico del mare e questa pista diciamo restringe la carreggiata della via di via Soncino per diminuire la velocità delle automobili e mettere quindi sicurezza avere più sicurezza sia per gli automobilisti ma anche per i pedoni ciclisti che percorrono quotidianamente questo tratto e è stata appunto cambiata tutti i pali dell'illuminazione pubblica che sono a led quindi una miglioria, un efficientamento energetico una miglioria per la sicurezza stradale quindi più di così non potevamo chiedere Ma questo non è solo che l'inizio esiste su Fano una progettualità per creare una vera rete di ciclopedonali che come tante arterie di superficie creano una viabilità alternativa per decongestionare dal traffico i quartieri della città tutti messi naturalmente in rete Ovviamente noi ci fermiamo qua perché quando saranno finiti anche i lavori dei sottoservizi di ASET faremo anche le asfaltature quindi si migliorerà ulteriormente Ecco ma quello che mi piace sottolineare è proprio questo aspetto è un progetto, un intervento non spot ma che sta in un quadro più ampio di qualità della vita dei nostri quartieri e sta dentro anche un altro progetto che è la bici politana quindi anelli percorsi ciclabili ma su questo ne parleremo più avanti Un lavoro di pregio questo della ciclabile di Sant'Orso portato a casa con una progettualità tutta interna al comune da ingegneri e tecnici e a basso costo 130 mila euro Ora si tratta di raccordare via Soncino con il centro attraverso la ciclabile su via Papiria per completare il circuito virtuoso I prossimi interventi poi si concentreranno anche su via Bellandra anch'essa da sistemare per far convivere bici e auto e dove però le soluzioni sono ancora in fase di elaborazione come pure in via Trave e in via Fanella dove con piccoli raccordi verranno messi in rete i tratti già realizzati A Fanno la tasta di soggiorno passa al digitale Da questo mese l'avvenuto pagamento non si potrà più comunicare tramite cartaceo ma lo si potrà fare utilizzando esclusivamente un nuovo portale internet attraverso una piattaforma web dedicata Tra le principali motivazioni spiegano gli assessori Luca Relli e Cucchiarini c'è la lotta all'evasione fiscale come ci è stato segnalato più volte dalle associazioni di categoria Ricordiamo, hanno poi sottolineato che la tassa di soggiorno è un'imposta che viene reinvestita totalmente sul settore del turismo Il Carnevale di Fanno va in aiuto a quello di Visso Alcune opere dei carristi fanesi finiranno in un carro allegorico di questa cittadina marchigiana dedicato alla satira politica Il servizio di Filippo Pucci C'è voglia di riprendere la tradizione del Carnevale nel comune Vissano Borgo Terremotato in provincia di Macerata Sono queste le parole del vice sindaco e assessore al turismo di Visso Patrizia Serfaustini L'evento, partito nel 2014 e con un crescendo di pubblico è terminato due anni dopo nel 2016 a causa del sisma che ha messo in ginocchio l'intero comune Vogliamo rivitalizzare Visso, spiega il vice sindaco e fare in modo che la gente e soprattutto i bambini possono vivere anche momenti di spenseratezza dopo i fatti accaduti Ed è qui che l'amministrazione comunale di Visso ha programmato per sabato 22 febbraio l'evento carnevalesco ed ha deciso di contattare alcuni dei più importanti carnevali italiani Tra questi c'è anche Fanno che vanta quello più antico d'Italia e ieri negli uffici dell'ente carnevalesca si è svolto un incontro tra la presidente Gian Marioli e il vice sindaco di Visso Serfaustini Ci hanno richiesto aiuto per ricostruire il loro carnevale questo ci fa tanto piacere non tanto per il carnevale in sé ma perché significa che hanno la volontà di ricominciare e ricominciare su eventi gioiosi è molto importante psicologicamente per una popolazione così provata quindi ieri ho incontrato il vice sindaco di Visso sono venuti a vedere i nostri magazzini ovviamente ci siamo resi disponibili a donargli delle opere d'arte che verranno riproposte a Visso su dei piccoli carri inoltre gli abbiamo proposto di venire al Palazzo del Carnevale con un loro evento con dei loro prodotti per dare una mano al loro territorio insomma un pochino a ripartire loro sono stati molto contenti queste collaborazioni ovviamente il carnevale le sostiene sempre il carnevale di Fano perché teniamo molto alla solidarietà teniamo molto all'amicizia e teniamo a che tutti mi piacerebbe che tutti i carnevali marchigiani con capofila Fano insomma in qualche modo si parlassero questo è un progetto che ho da un po' in testa vediamo se con Visso iniziamo anche questo altro progetto tra i vari carri che sfileranno ce ne sarà uno in particolare dedicato alla satira sono stati interessati dalle teste dei politici loro ovviamente faranno un carnevale un po' prendendo per i fondelli tutti i politici che si sono riversati sulle zone terremotate si faremo, si faremo in realtà purtroppo queste zone terremotate sono ancora indietro nella ricostruzione e negli aiuti quindi la satira sarà su questo e quindi insomma beh mi sembra abbastanza normale che sia così una capretta a spasso lungo la Flaminia a Fano guardate queste immagini che ci arrivano da Cucurano girate nel pomeriggio di oggi da un nostro reporter di strada nel video si vede la povera bestiola muoversi tra le auto sfrencianti in direzione Fano anche se impaurita cammina spedita fino a passare davanti alla vitrina di un negozio molti passanti e gli automobilisti incuriositi da questo insolito incontro nel filmato che adesso è ripartito ma poco fa avete potuto vederlo si vede anche un'auto che rallenta per non investirla evidentemente l'animale è sfuggito al controllo di un pastore o sarà scappata da qualche ovile 300.000 visitatori hanno affollato 18 borghi della provincia di Pesero Urbino per tutto il periodo dedicato al Natale che non ti aspetti il bilancio è stato presentato questa mattina dalle proloco che hanno aderito all'iniziativa il Natale che non ti aspetti l'evento diffuso organizzato dalle proloco di Pesero Urbino e sostenuto dalla Regione Marche conclude la sua edizione da record con 300.000 visitatori che per 7 settimane fino all'Epifania hanno visitato il territorio provinciale caratterizzato da 18 borghi coinvolti e animati dagli eventi organizzati dai mille volontari delle proloco in collaborazione con la provincia un grazie veramente dal profondo del mio cuore lo devo rivolgere ai nostri volontari alle nostre famiglie che si impegnano e con amore e passione sacrificando il proprio tempo libero è un lavoro di squadra che abbiamo messo in campo da qualche anno con la Regione Marche il Natale che non ti aspetti ha attirato l'attenzione anche delle trasmissioni televisive dell'Etere raggiungendo la promozione dei canali nazionali e locali un successo da record dunque che nello specifico ha registrato 60.000 presenze a Gradara 36.000 a Candelara 1.000 camper per la festa nazionale della Befana di Urbania 20.000 presenze per il Natale a Monbaroccio 7.000 frontone dati in crescita ad Urbino dove le vie dei presepi hanno accolto 5.500 visitatori arrivati nella città ducale per conoscere le 300 natività collocate in oltre 60 punti espositivi dato positivo rilevato anche per il magico Natale a Fossombrone e eventi non stop anche per il Natale pesarese mentre ottime presenze per il pubblico del Natale più di Fano che ha segnato più volte il tutto esaurito in piazza 20 Settembre così come Capodanno ed Epifania vorremmo incrementare sempre di più questi eventi negli anni a venire aumentandone il numero e fare in modo che questo territorio diventi veramente un Christmas Land quindi il Natale che non ti aspetti in un territorio che diventi il territorio del Natale la terra del Natale per gli anni a venire il ricco programma del Natale che ha coinvolto la provincia ha portato anche degli ottimi risultati per le strutture ricettive e la città di Pesaro continua a richiamare grandi eventi sportivi a metà febbraio occhi puntati sui campi da basket per la Final 8 alla Vitir Frigo Arena attesi oltre 30.000 spettatori servizio di Francesco Salvago presentata la lista delle partecipanti alla prossima Zurich Connect Final 8 di Coppa Italia che andrà in scena alla Vitir Frigo Arena da giovedì 13 a domenica 16 febbraio prossimi un grande evento che vedrà coinvolti tanti giocatori e tifosi di basket a Pesaro rilanciando la promozione sportiva della città le prime otto formazioni classificate al termine delle giornate di andata di Serie A si sfideranno per la vittoria della Coppa Italia ad aprire il tabellone del torneo ci sarà il match Milano-Cremona giovedì 13 febbraio alle 18 poi Virtus Bologna-Venezia alle ore 20.45 venerdì 14 invece gli altri due quarti di finale con Sassari-Brindisi alle ore 18 e Brescia-Fortitudo-Bologna alle 20.45 sabato invece le semifinali la vincitrice di Milano-Cremona affronterà chi si aggiudicherà la sfida tra Virtus e Reier ore 18 alle 20.45 l'altro match finale in programma la domenica successiva stiamo vedendo già come il livello del campionato sia cresciuto complessivamente abbiamo quattro squadre in Euro Cup che si sono qualificate per le Top 16 e questo è una cosa che non accadeva da tantissimi anni la manifestazione la Final Eight sarà una manifestazione di alto livello tecnico che sicuramente sarà una delle principali in Europa non soltanto in Italia Per Ricci ospitare l'evento aiuterà la città la destagionalizzazione riportando a Pesaro la rilevanza dello sport sul lato cestistico Il Vitrifrigo Arena è una grande struttura in generale questa città può candidarsi a qualsiasi tipo di manifestazione sportiva una grande vocazione sportiva di tutti gli sport e in particolar modo tra gli sport una grande passione per il basket che esploderà dentro questi quattro giorni di grande basket a Pesaro Per l'occasione verrà inaugurato all'interno della Vitrifrigo Arena una componente importante verrà installato per quell'occasione un tabellone elettronico nuovo che permetterà di avere insomma di aggiungere spettacolo allo spettacolo perché avrà uno schermo con soluzioni di continuità forse il più grande che è stato installato in questo momento in Italia con la possibilità di avere veramente delle performance grandissime dal punto di vista delle proiezioni dal punto di vista delle riprese che insomma possono avvenire durante gli eventi e con il basket si chiudi qui occhio alla notizia vi ricordo però l'appuntamento importante di lunedì sera perché ritorna primo cittadino la prima puntata dell'anno è quello qua il cartello il sindaco Massimo Seri sarà in diretta dalle ore 21 potete intervenire telefonando allo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci anche un messaggio con whatsapp al 338 49 68 250 domani mattina invece ritorna come di consueto la rassegna stampa domani sera visto che è sabato il nostro magazine set per occhio grazie per averci seguito e buona serata a tutti voi grazie a tutti